Lucrezia Borgia, una figura controversa nella storia. Lucrezia Borgia è una delle figure più controverse della storia. Figlia illegittima del Papa Alessandro VI, è stata spesso dipinta come una donna dissoluta e immorale. Coinvolta in intrighi politici e scandali sessuali. Tuttavia, la sua vera personalità è molto più complessa di quanto la leggenda voglia far credere. Nascita e infanzia. Lucrezia Borgia nacque a Subiaco. In Italia, il 18 aprile 1480. Suo padre era il cardinale Rodrigo Borgia, che nel 1492 sarebbe stato eletto Papa con il nome di Alessandro VI. Sua madre era Vannozza Cattanei, una donna romana che fu amante di Rodrigo per molti anni. Lucrezia trascorse la sua infanzia a Roma, dove ricevette un'istruzione completa, imparando a parlare diverse lingue, a suonare strumenti musicali e a ballare. Matrimoni politici. Nel 1493, Lucrezia fu data in sposa a Giovanni Sforza, signore di Pesaro. Il matrimonio era una mossa politica per consolidare l'alleanza tra la famiglia Borgia e la famiglia Sforza. Tuttavia, il matrimonio fu di breve durata e fu annullato nel 1497. Nel 1498, Lucrezia fu data in sposa ad Alfonso d'Aragona, duca di Bisceglie. Il matrimonio fu nuovamente una mossa politica, questa volta per rafforzare l'alleanza tra la famiglia Borgia e la corona d'Aragona. Alfonso fu assassinato nel 1500, e Lucrezia fu accusata di essere stata coinvolta nell'omicidio. Nel 1502, Lucrezia fu data in sposa ad Alfonso I d'Este, duca di Ferrara. Il matrimonio fu un successo, e Lucrezia e Alfonso vissero insieme per molti anni. Vita a Ferrara. A Ferrara, Lucrezia Borgia si dedicò alla sua famiglia e alla sua corte. Fu una governante efficiente e abile, e contribuì a rendere Ferrara un centro culturale e artistico di primo piano. Lucrezia Borgia morì a Ferrara il 24 giugno 1519, all'età di 39 anni. La leggenda di Lucrezia Borgia. La figura di Lucrezia Borgia è stata oggetto di numerose leggende e interpretazioni. È stata spesso dipinta come una donna dissoluta e immorale, coinvolta in intrighi politici e scandali sessuali. Questa immagine negativa di Lucrezia Borgia è in parte dovuta alle opere di alcuni scrittori e artisti del XVI secolo, che la dipinsero come una donna malvagia e pericolosa. Tuttavia, è importante ricordare che queste opere erano spesso basate su pregiudizi e stereotipi. La vera Lucrezia Borgia. La vera Lucrezia Borgia era una donna molto più complessa e sfaccettata di quanto la leggenda voglia far credere. Era una donna intelligente e colta, che era molto amata dalla sua famiglia e dai suoi sudditi. Lucrezia Borgia fu una vittima delle ambizioni politiche della sua famiglia, e fu costretta a sposarsi diverse volte per motivi politici. Tuttavia, fu anche una donna forte e determinata, che riuscì a sopravvivere in un mondo dominante, dagli uomini. Punto conclusione. Lucrezia Borgia è una figura controversa, ma è anche una figura affascinante e complessa. La sua storia è una storia di ambizione, potere e amore, e continua a ispirare e a incuriosire gli storici e gli appassionati di storia.